Una ricetta deliziosa e semplice di MelaRossa.it Insalata di riso Abbiamo bisogno di riso Gamberetti, in questo caso io ho dei gamberetti in salamoia Ma se volete potete utilizzare quelli freschi Tonno al naturale Fagiolini, questi sono fagiolini lessati E olio d'oliva Incominciamo con il cuocere il riso In acqua bollente salata e lo cuociamo per 15 minuti Mascoliamo, chiudiamo Quando è pronto lo scoliamo e lo lasciamo raffreddare Contrariamente a quanto si crede Il riso non è un alimento dietetico Ha le stesse calorie della pasta Ha una quantità di amidi molto importante Simile a quello della pasta E di conseguenza può essere considerato un elemento base della dieta mediterranea Attenzione perché ha un indice glicemico più alto della pasta Perché è molto più digeribile Nel frattempo mondate e capate i fagiolini E lessateli in acqua salata per circa 30 minuti Li scolate e li lasciate raffreddare A questo punto prendete una ciotola Questo è il riso che avevo preparato in precedenza E incominciate a mischiare tutti gli ingredienti Lo versiamo nella ciotola E a questo punto anche i fagiolini Il tonno E i gamberetti Sul sito troverete altri tipi di ricette Con il riso, con l'insalata di riso Che possono anche essere vegetariane Con altri tipi di verdure L'olio d'oliva E mescoliamo il tutto E a questo punto io guarnisco con un po' di prezzemolo tritato E servo su un piatto Ed ecco qui l'insalata di riso di MelaRossa.it Buon appetito!